Quattro di Adar. La prima cosa che è necessaria come preparazione per approfondire nei concetti intellettuali divini, specialmente nella chassidù, eccetera, sono due cose che sono necessarie. Uno, uno sforzo del corpo di liberarsi di tutte le cose materiali, di liberarsi dell'attrazione verso le cose materiali di questo mondo. Secondo sforzo, uno sforzo dell'anima, di risvegliare il gusto che c'è nelle cose intellettuali in generale e risvegliare il gusto di comprendere Dio. E queste due cose insieme sono preparazione per poter studiare, comprendere la divinità e che questo abbia un effetto su noi. Adesso facciamo il secondo ayom yom di Adar Bet. Il mittele Rebbe, il secondo Rebbe di Lubavici, il figlio dell'alte Rebbe, quando lui diceva di un discorso chassidico, era un silenzio perfetto assoluto in aula. Nonostante ciò, lui, in mezzo che parlava, ogni tanto diceva chassia, chassia, come silenzio, silenzio. Dice il Rebbe presente, mio padre, il Rebbe Asshav, ha spiegato che questo è quello che stava cercando di fermare l'affluenza del suo intelletto. Perché una persona che è molto intelligente, tante volte c'è un'idea dopo l'altro, un'idea dopo l'altro, questo è un tormento, non riesce a finire un discorso, ho già avuto altre idee. Dicendo questo, il mio padre, il Rebbe Asshav, ha spiegato quello che c'è scritto lo Zohar, che il Sava, Sava significa letteralmente nonno, ma in questo contesto significa il saggio. Dunque, il saggio è quello che la sua mente è nascosta, è tranquilla, è calma. Devo dire che molte volte, specialmente magari nella gioventù, una persona ha tantissime idee, tantissime energie, che non riesce sempre a impostarle in una direzione. E quando uno matura un po', allora la sua mente è più tranquilla e riesce a concentrarsi meglio. Si racconta di un altro saggio, il Ragacciover. Il Ragacciover è un grande genio che ha vissuto nel secolo scorso. Il Rebbe ha ricevuto l'ordinanza rabbinica da lui, tra l'altro. Ragacciover era un grandissimo studioso, un genio enorme. Lui, tutto il tempo gli venivano un sacco di idee. Lui, pensate che lui ripassava tutto il Talmud intero in sei ore. In sei ore, a memoria, ripassava tutto il Talmud intero. Era una mente straordinaria. Lui era capace di scrivere con due mani, due concetti diversi. Il giorno che soffriva di più era il Shabbat. Perché il Shabbat, non potendo scrivere, non riusciva a controllare l'energia della sua mente che andava in maniera incontrollabile. Invece scrivendo, questo lo obbligava a essere più concentrato, a limitare la sua energia. E' un'ergia. E' un'ergia. E' un'ergia.